Antonio Galardo, sapete, è una bandiera del Crotone Calcio, un uomo al quale il Crotone Calcio non può rinunciare, oggi abbiamo trovato l'accordo. Antonio Galardo in questi anni ha dimostrato tutto il valore che ha e quanto ci tiene a questa maglia e a questa società, per cui lo ringrazio e secondo me con lui in squadra saremo sempre una squadra competitiva. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio. Chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno. Chi ha malazzia, chi va porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato. Chi sogna ai milioni, chi gioca ad azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano. Chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba chi lotta, chi ha fatto la spia. Ma il cielo è sempre più blu, il cielo è sempre più blu.